Alla Dacia Arena è arrivato anche Alessandro Talotti, ex atleta di grande livello e ora è delegato del CONI provinciale e quindi a lui chiediamo cosa significa portare il calcio femminile oggi in uno stadio di serie A maschile? Io direi che il calcio oggi ha assunto una dimensione totale nel mondo, in alcuni paesi come gli Stati Uniti il calcio femminile è uno sport che è predominante addirittura rispetto al maschile, credo che la Dacia Arena o Stadio Friuli come amo chiamarlo io sia il regno del calcio, un fiore all'occhiello del nostro territorio e che ospiti oggi una partita così importante di uno sport così bello come quello del calcio è un segno veramente di grande attenzione e credo sia un orgoglio per il nostro territorio poter ospitare qui una partita così importante dal nome come quello della Juventus ma soprattutto che sia un messaggio di integrazione di uno sport che vuole essere totale sai bene io vengo dall'atletica leggera che assieme ad altri sport come la pallavolo il maschile e il femminile sono equamente distribuiti e comunque equamente importanti oggi come oggi secondo me anche il calcio deve tendere a questo e credo che sia quindi il segnale più bello per il mondo sportivo del nostro territorio